Cosa vuoi? Biscottino? Bud? Dove stai? Che vuoi? Biscotto? Che vuoi? Un buon biscottino? Bud? Buoni il biscotto? Dov'è il biscotto? Dove stanno i biscottini? Buoni? Tu l'hai già mangiato? Basta i biscotti Bud. Dove vai? Non ci sta il biscotto là Bud? Vieni qua. Basta i biscotti Bud. Basta. Domani? Domani? Mamma te lo ridà. No, adesso basta biscotti. Basta i biscotti Bud. Basta. Stop. Hai mangiato tanti biscotti Bud. Basta. Non te li do. Non li vado a prendere. Stop Bud. Hai mangiato tanti biscotti. Basta. Stop biscotti. Basta Bud. Basta. Ok? Vieni qua. Dai. Non ti do più i biscotti Bud. Basta. Finito. Stop. Stop Bud. Stop. Basta. Cosa vuoi? Basta. Stop. I biscotti tanti fanno male. Domani. Domani ne mangi altri. Ok?